Nei Miserabili di Vittorio Hugo è molto presente il tema della giustizia penale. Su due piani, un piano di critica sociale della giustizia penale dei tempi di Vittorio Hugo e su un altro piano quello del vissuto esistenziale dei personaggi che sono comunque a contatto con la giustizia penale. Oltre il protagonista Jean Valjean, la cui vita è segnata dall'incrocio con il delitto, molto significativo è anche il personaggio di Javert, il poliziotto, che vive un vero dramma che lo porta al suicidio tra la giustizia penale degli uomini e una giustizia penale della carità, non sempre appartenente alla dimensione umana.